Fashion for Young Generation è un'opportunità davvero tanto grande che OBS dà ai giovani. È una cosa che forse è stata fatta veramente poche volte ed è secondo me da prendere ad esempio. Io sto vivendo un'esperienza che non capita quasi a nessuno, nel senso che davvero da neodiplomata questa è un'esperienza magica. Non avevo mai effettivamente avuto nessuna esperienza lavorativa e avere come esperienza lavorativa questa è senz'altro un ottimo punto di inizio. Mi ha fatto capire come nasce dal nulla una collezione. Io ho vissuto e ho osservato tutti i processi di un lancio della collezione. Quindi da un'idea su carta allo sviluppo, alle fotografie, al pensare se una zip è meglio in un modo o meglio in un altro. E questa è un'esperienza che non avrei potuto fare altrimenti se non avessi avuto questa opportunità. Non riesco ancora a immaginare come sarà quando uscirà la collezione, quando la vedrò nei negozi, quando vedrò il mio nome accanto al nome del signor Aspesi. Non riesco ancora a immaginare questa cosa. Penso che sarà una grande emozione.